di questa due giorni di cinema ad Acquapendente, l'avamo chiamata così perché sono due film girati ad Acquapendente, c'è la storia anche del cinema di Acquapendente, insomma è un nome che vuol dire tante cose. Passo la parola a Gabriella, l'amministrazione non solo. Buonasera a tutti, dunque io sono qui in rappresentanza dell'amministrazione comunale questa sera perché è impegnata sia il sindaco che gli altri componenti con il consiglio comunale. Io ho ottenuto un permesso speciale per questa sera perché è una cosa particolare per me e comunque verrà poi il sindaco appena finisce sicuramente il consiglio comunale farà presente. Dunque io devo innanzitutto ringraziare Emiliano per questa sera perché è stata veramente una bella serata proprio densa di tutto, di emozioni, ricordi ecco e questa sera penso sarà la stessa cosa. Dunque Antonio so che è molto legato alle nostre zone quindi e so che questo film non l'ho mai visto quindi sono curiosa ecco è girato ecco tutto qui ad Acquapendente, Tor Ralfina vero? e quindi come amministrazione comunale a noi ci fa piacere che venga preso in considerazione da degli registri importanti come lei. Per quanto riguarda ecco la mia storia personale cioè legata al cinema perché è una cosa importante appunto da livello affettivo per mio padre non so se lei la conosce, le ha spiegato, ha iniziato diciamo la storia del cinema inizialmente con mio nonno 93 anni fa e poi è proseguita con la storia di...